ciao a tutti bentrovati a un nuovo video di dark souls 2 allora qui non c'è nulla lì avevo preso quel baule aperto e dopo aver sconfitto il box con l'aiuto dell'amico online ora ci dirigiamo in una nuova locazione ovviamente sono ancora alla ricerca del primo falò visto che ho diversi anime non vorrei fare un casino eccoci intrigante come va vediamo come come si chiama non c'è nulla la torcia dovrebbe esserci per forza automaticamente un falò io quando ho così tante anime credetemi sono molto terrorizzato l'idea di perderle sentite il canto eccolo santuario di amana o amana a seconda di come mettete l'accento se avete studiato il francese ok ora diciamo che ci rivediamo qua io mi vado a riposare e a viaggiare verso ma giù la per farmare un po il nostro personaggio a tra pochissimo si di nuovo al santuario di amana o amana con questa voce questo canto suave andiamo a vedere dove porta questa porticina pensavo ad avere una bacchetta opla perché non me la miri bene perfetto vediamo qua io rischio sempre se poi sono dei mimiche buonanotte erba crocuscolare appassita in senso dello scettico qua c'è il mondo sottostante nel frattempo che sono andato a livellare un attimo il personaggio con quelle mie anime ho preso anche l'arco perché ho visto in lontananza che secondo me ci sono dei nemici che è meglio attrezzarsi ho la vaga idea che in questo mondo si cada molto perfetto un colpo è morto con le bestiazze stivali dell'arcidrago un canto terribile ho letto online che in questo livello questo mondo diciamo così questi energumeri qui questi mostriciattoli farmano delle effigie umane che come vedete adesso non ce ne hanno data neanche uno una andiamo a aprire qui vediamo che c'è permesso buongiorno ha smesso di cantare la donzella milfanito piacere baudo pippo l'abbiamo la l'abbiamo noi no ci noi non ci Do you seek King Bendric? But what is a king after all? We know nothing of the world outside For we will never leave here When we sing the little ones dance The little ones grant comfort To those who bear death and dark This is what we were taught Is there anything wrong? Perhaps this will help Pietra liscia e scetosa When we sing the little one This is what Ok Let's go And we go So 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 Those are so quiet Those Opla Gemma vitale radiose L'acqua è più blu lì Quindi secondo me Ecco l'effigio umano Si cade più che volentieri Due? Cazzo Due? Ma che cazzo fai? Direi che è meglio svignarcela Uh come corre E guarda come dondola Guarda come dondola Guarda come dondola Nooo Vabbè Alla fine Diciamo così Sono dondolato io Eccoci tornati qua Eccoci tornati qua Bisogna solo magari stare un attimo attenti di prenderne uno per volta Oh Questi cavalieri qua Grande anima del cavaliere Bene 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 Oh qua c'è un amico Però No Io ho molta paura Che Ok 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 Ci torniamo finalmente da questo Finto mago Uh Qui che cacchi sono questi Permesso Permesso Con due colpi Vabbè va l'ultimo Non farmano niente Ma sono in occhi Ok 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 Questa è venuta fino a qua a rompere le palle Roba da matti Ok io devo andare di qua Però Però Che cacchio c'è qua Non può esserci già un boss qui Ah eccomi Mi sembrava molto strano Quindi di nuovo acqua e di nuovo rischio caduta in agguato Perfetto Perfetto Ecco che il nostro arco ci tornerà utile Se riuscirò a usarlo Perfetto Stare lì con l'arco Mi fa perdere troppo la pazienza Quindi mi è già scesa la catena Allora io spero che qua io possa attraversare Bene 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 Ok Vediamo se mi lasci qualcosa No Qui siamo letteralmente Se si dovessero attaccare In preda qualche nemico Perché l'acqua Se io andando lì L'acqua sembra bassa qua Ma Non so perché non è che mi fido tanto eh Seme del fuoco Ui questo lo prendiamo da dietro Perfetto Permesso Fa un culo va Oppola Oh no 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 intanto ci curiamo ho visto una vecchia conoscenza oppala però cacchio qui tu sei pericoloso ciccione vediamo un po' come lo possiamo attaccare oh cazzo dove ce l'ho in fronte non ne faccio niente direi che sei incacchiato vabbè prima vediamo che c'è qua accendi torcia questi non sono pericolosi e quelli che rompono le palle sono quelle stregacce lì guardate che non ho energia dov'è? ce n'è solo una e porca troia cazzo due 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 qua bisogna scappare sono rimasto incagliato col nemico ok direi che dal prossimo video riprendiamo da qua per ragione di spazio non posso andare oltre ok